ci riprovano ancora gli uomini di Rimini ci riprova ancora altro tentativo del numero 13 il pallonetto ed è seccato dal numero 50 dei briganti Napoli da Fabio Gustuti è lui che porta a segno questo sec un'inquadratura molto intensa per la panchina dei briganti di Napoli seguono naturalmente con grande attenzione l'evoluzione delle fasi di gioco e naturalmente